Ciao amore, ho le foto della nostra festa, le scarico sul tuo computer. Sì, sì, fai pure. Ehi, ma è uscito Alto 4? Guardalo, ci sono un sacco di novità. Bella la nuova grafica. E ma gli effetti di Alto 3 ci sono ancora? Ah sì, eccoli. Comunque gli effetti multifoto resterò sempre i miei preferiti. E questo? Questo cos'è? Ma ce ne sono tantissimi. Miraggi, gradiente, ombra. Ma io li voglio provare tutti. Ehi, hai visto? È incredibile, puoi ritoccare le foto come vuoi. Sembra un vero professionista. Ma non eri tu che dicevi di non essere un mago del computer? Sì, ma con Alto è tutto più facile. Lo sanno usare anche i bambini. Vabbè, mettiamoci subito all'opera. Non vedo l'ora di creare un nuovo fotolibro. Crea libri fantastici con Alto 4 su Fotositi.it Su Fotositi.it Grazie a tutti.